mobilitazione questa mattina attorno alle 7 in piazza Duomo a Como per 5 giovani che si sono arrampicati sul tetto del Duomo probabilmente per scattare foto e immortalare la loro folle impresa. I giovani che camminavano pericolosamente in alto alla cattedrale sono stati notati dalle persone presenti in piazza che hanno chiamato il 112. Sono intervenuti gli agenti della polizia e della polizia locale per far scendere in sicurezza il gruppo è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala. In piazza anche l'automedica del 118 e un'ambulanza anche se poi i ragazzi non hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria. I ragazzi, quattro francesi e un italiano tra i 22 e i 27 anni, tra i quali due ragazze, sarebbero saliti dall'esterno arrampicandosi in alto al Duomo dal lato del broletto. Sembra che volessero scattare delle foto e in base a quanto accertato dalle forze dell'ordine si tratterebbe di arrampicatori già noti per simili episodi in altre città d'Italia ed Europa. Una volta portati a terra sono stati accompagnati in questura a Como dagli agenti delle volanti per gli accertamenti. Sono stati denunciati per invasione di edifici e i francesi anche per aver dichiarato false generalità.